Ma va il che cazzo è poi? Oh però! Ha buttato un demone Eh però con la spalla lì mi sa che non vuole ignorarsi Ah dici? Ma lasciala a me! Lasciala a tuo figlio! Cazzo! Perché ha capito che anche lui è un demone Dai ma ripigliati non è tuo figlio madonna Due ore che te lo dice No! Adesso si scadena Ma che cazzo di spada è? Grande cazzo! Vuoi? Si la puta! Pesto friendo Concia di tua madre Si ma toglietemi quella spada lì! Ma toglietemi la spalla Eh ma non è riuscito a togliarla lui Ah Tagli la spalla No non può morire Ma qui non si sapeva ancora mi sa eh Nella nell'anime Excalibur Ma ripigliati Un paio di occhiali ci vogliono Non ha fatto Deve fare una cosa Deve fare una cosa Adesso le ha conficca di più dentro In due a guarire Sintura adesso farà una trasformazione Ma è così Comandamenti Che va ieri e la bestia Indura Ma scusa quindi lì dentro c'è un demon dall'inizio Di castigo Un basauro Perché? Ma dai oh ma questo è sempre più scemo Cioè man mano che va avanti il film Ti giuro meno male che muori E la spada va a tuo figlio Esca non tagliate le perle Se volete morire Eh se volete morire Cazzi ma va strinato Comunque finora carino dai Gli hanno sconfitti un po' troppo facilmente Però carino Come di consueto Esatto No consueto no Cazzo i dieci comandamenti Gli hanno dato il figlio da torcere Sì Però dopo che dovrà voler essere peggio Ma questa? Il re dei demoni lo fanno fuori in una puntata Ma che in una puntata è durato 20 puntate il re dei demoni? Sì dici cazzo La battaglia contro Freezer Il zio dura un anno Boh ma sempre il re dei demoni però Sì Cioè l'hanno comunque Poi salta fuori quella specie di gatto bastardo Anche lì una puntata o due Boh ma anche lì scusami Freezer 20 puntate Deve esserci anche qualità capisci? Io mi sono rivisto la sfida con Freezer E puoi tranquillamente saltarne 7 di quelle puntate Sì Cioè 16 ore a dirsi Ah allora mi batterai Sì ti batterò No ma allora mi batterai Sì ti batterò Cioè Capisci? È per quello che Allora quello è Dragon Ball Dragon Ball soprattutto la zeta è così Quando ti fanno a qualche combattimento Lo caccio dentro 7-8 puntate di combattimento Di chiacchiere poi Ah dunque dunque si è migliorato Sì Non hai ancora fatto vedere tutto il tuo potere Sì Non sai chi hai davanti Ah questo lo dici tu Che fai Con i olders Massima potenza Ah 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 Quello mio competitions Come inferiore Un opinione di unoltrato Live Oh il Papi Dimostrami che sei nuovo Ti giuro è più bravo lui che il suo papà vero Sì Uhhhh è la madonna sono a raggio ma sembra un mega facciucoso mi complime con piedi e piedi e metto grazie sono uguali però a parte i capelli oh cos'è secondo secondo che figo puttana questa la spada sakura che roba è oh 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 e buongiorno eh buongiorno questo è il meliolas puttana oh 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 pulito pulito sei la vergogna è il latte E' quasi che facciamo un'orgetta al volo, due contro due E ora si beve Un maiale volante Un colpiero Ma è tipo una via di mezzo Perché sta tramontando Cioè non è Ma hai visto questa? Si sta sgonfiando Anche perché non terrebbero i vestiti da su Non ha preso le casini Adesso sono qua dell'appicchio Oh amore nell'aria Madre Madre del caos Ah è vero Ma è lei allora E perché abbiamo visto tutto È vero l'avevo già detto Però sappiamo cos'è Ma è vero che lei è la manga del caos però non gli diamo peso Ok ok Non mi ricordavo Però adesso sappiamo cosa vuol dire No carino dai per passare un paio d'orette Si Poi c'erano delle scene veramente che mi hanno gasato Però il secondo film a quanto pare è Meglio È proprio un passaggio da vedere prima che poi esca il nuovo anime Ah ok Sono già usciti i capitoli del nuovo manga Si si ce ne sono un botte Non lo stai leggendo? No Preferisco aspettare l'anime per stupirmi di più No ok Non voglio sapere già tutto Però dicono che sarà Non male Una sorta di Boruto Sette nuggets qua o Eh no Sette nuggets Sette nuggets Potete insultare Sono i figli Sono tre dei figli Iki Ban E Meliodas E un altro Speriamo che non sia come Boruto Cazzo che Comunque mi hanno dispiaciuto Ecco Anche a me Anche a me è piaciuto dai Non so Si ovviamente i combattimenti non potevano essere così lunghi Perché sennò non erano figli No esatto Durava sei ore Ci stava che li distrogevano tanto subito Si Sai puoi non vederlo Come puoi vederlo Piacere tanto Stai bene Si Bene Avete altro da dire voi? Altre considerazioni? Eh no Sinceramente Bello Si da vedere Ma nulla da dire Poi guardare anche senza aver visto l'anima Cioè No non fa parte C'è fa parte ma non fa parte della storia Esatto Si Soria Madre si Padre dell'anno Soria Padre di merda proprio Band In due frasi è stato un padre migliore Ma non sono tuo figlio Non sono tuo figlio ancora Cioè non riconosci neanche tuo figlio E quando torna gli dici miei Bastava che era forte no? Cioè Fa niente se hai perso le ali Si si sei forte tol mio pesce tol la mia birra Pesce a pesce Pesce a pesce Pesce a pesce Bello Sto pensando se c'erano altre cose fighe E Boh a me è piaciuto rivedere No No Ma è semplicemente la cena Perché lui aveva il compleanno del Ra del Cazzo Ma buongiorno Si è quello Ma io Ma io Ma io Ma io Perché si è spento proprio Poverino Era del Cazzo Ma lo sbocca No Sbocca anche lui Ma anche lui sbocca arcobaleno L'ha ucciso E' fighissimo dai Og Celestial Sbocca E' diventato mentale Grazie Francesca Zannacca Sandman E' così buono Bisogna ricordarmi Sandman Finito